Per fare gli auguri a due atleti che molti di voi conosceranno, sia il papà che la mamma che corrono il barriere del feridoro, che sono i spoti Omar e i spoti Silvana che proprio oggi hanno avuto il loro prono bimba, il bimba che si chiama Elia. Per fare gli auguri, il bimba che si chiama Elia.